Buongiorno 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 la posizione sta cambiando si è vero ma non è quello suo vai 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 ho passato un tiro sempre 4 4 ah ora ragazzi chi tiene lui chi tiene lui ma adesso la continua quello che preferisce ok siamo ora vedi d bravo non fate fare giorno non fate fare giorno ma ne vuoi ancora io vedi lo said or te se Buono una scuola dì va eh Spara Uno Due Che abbiamo stai a uscire Nocchio 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 Buono 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 Cuidiamo Buono Buono lågo Buono andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti